Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi presento l'unboxing e non il video Cosa ne penso, che seguirà a breve di Company of Heroes, il board game e il gioco da tavolo, in questa edizione che vedete qui davanti, a cura di Bad Cross Games, ed è un gioco spettacolare e strategico, ed è un gioco spettacolare e strategico in tempo reale, ambientato sui vari panorami della seconda guerra mondiale, i panorami più noti, ad esempio la Normandia, le Ardenne come espansione, ma anche la Russia e quant'altro, gioco nella controparte videoludica a cura di Relic ed edito direttamente da Siga, che penso ovunque ne parliate, Company of Heroes. Si è conosciuto da tutti i fan della seconda guerra mondiale, ma anche i fanatici dei giochi di strategia, perché venendo un po' dalla storia anche di Warhammer Dawn of War, se vi ricordate, è lo stesso team di sviluppo ed è ben o male lo stesso tipo di gioco, secondo me, di tutti gli strategici usciti negli ultimi anni, lo dico senza esagerazione, Company of Heroes è stato il migliore, perché è un gioco bello, con una bella grafica, immediato, user-friendly, difficile da padroneggiare, ma allo stesso tempo altamente e fortemente competitivo, infatti non a caso ci hanno fatto dei tornei disumani, come vi dicevo sulla controparte videoludica. E in questa versione qui di Board Game, a cura della Bad Cross Games, vedete il set di base uscito dal Kickstarter in variante 4 giocatori, perché in questo set, nel set normale, c'erano americani contro tedeschi, ed era un set da 2, perché questo è un gioco competitivo da 2 a 4 giocatori, quindi non c'è una modalità cooperativa e non c'è una modalità per giocare da soli. In questa variante che mi hanno mandato, e li ringrazio veramente di cuore, ne sono onoratissimo, tra l'altro parte la vedete a breve nei filmati, guardate la scatola, cioè quant'è profonda, e non si chiude dal materiale che c'è, non si chiude, perché è veramente piena zeppa di roba, ora infatti vi dico, all'interno in questa variante per 4 giocatori ci sono americani e tedeschi, come nella variante per 2, i russi e ci sono anche gli inglesi all'interno, quindi potete giocare praticamente con tutte le forze principali della seconda guerra mondiale e sicuramente in futuro verranno messi anche Giappone e altri eserciti, magari anche la Francia nel mezzo che ha avuto un ruolo importantissimo, soprattutto la resistenza. Però le 4 forze in campo sono queste, dietro la scatola riporta addirittura 116 uomini di fanteria, quindi sembra di comprare una bustina di soldatini, 30 weapon team, addirittura 24 mezzi leggeri, 26 mezzi pesanti e 24 infantry trains, che sono praticamente le basettine un po' alla Warhammer, gioco di miniature dove mettere tutti quanti i soldatini all'interno. E ci sono tutti i carri più famosi, c'è il T-34 dei russi, c'è lo Sherman degli americani, che poi va bene, lo avevano anche gli inglesi, lo sapete bene, c'è il Panzer IV e il Tiger I dei tedeschi, che secondo me sono i carri più belli di tutta la seconda guerra mondiale e anche consentitemi le più potenti, e ci sono anche delle mappe di gioco. In questa variante Kickstarter, e mi dispiace non averla fatta al tempo, c'erano tantissimi stretch goal dove addirittura, a parte la mappa che è divisa in esagoni, ci si muove con gli esagoni, poi ve lo farò vedere meglio nel video cosa ne penso, c'erano addirittura gli elementi scenografici in 3D, c'erano veramente delle chiese, c'erano delle case, ragazzi non era più Company of Heroes, diventava Bolt Action, nel vero senso della parola, perché comunque ha una componentistica disumana, in questa versione no, li abbiamo su esagoni di cartone, cartone bello spesso, fatte anche bene come state vedendo nel corso del video, però comunque li abbiamo sul cartoncino. Facendo il Kickstarter invece avevamo proprio dei veri e propri edifici in 3D, tra l'altro c'è anche la guida all'interno su come montarle e tutto, fatti veramente veramente bene, ed è un gioco ragazzi spettacolare, perché riprende paro paro le meccaniche del gioco, della controparte videoludica, ovviamente il regolamento non lo va a snellire, perché non può mai essere fluido e veloce ed immediato come il click del mouse in un videogioco, però comunque è un gioco a turni veramente fatto bene ed è incalzante, è veramente divertente vedere le mosse che fanno gli avversari, come le andate a rispondere, e poi la parte più bella è la microgestione delle truppe, perché se prendete risorse, benzina, carburante e quant'altro, broccate fabbriche, fate punti, e con questi punti e con queste risorse potete andare a costruire le vostre forze, quindi potete fare degli upgrade delle forze in campo, ad esempio dare una browning da postazione alla fanteria, o dare il bazooka, l'anticarro alla fanteria, oppure semplicemente arruolare un cecchino, o ancora meglio magari passare da un caro armato tipo il Panzer IV, passare direttamente al Tiger I facendo un'evoluzione tecnologica, e quindi è veramente veramente interessante. In questo box qui davanti ci sono praticamente tutti gli eserciti per fare una battaglia in quattro, laddove si va a giocare praticamente sempre due contro uno, perché fondamentalmente tutte quante le forze alleate che ci sono all'interno, quindi russi, americani ed inglesi, vanno a combattere contro i tedeschi, quindi è sempre più gioco da uno contro uno, però ci sono anche delle regole aggiuntive e missioni particolari che vedrete all'interno del booklet appunto delle missioni. Io spero veramente di cuore che lo porteranno in versione retail in Italia, ma non ho dubbi che lo faranno, perché un gioco bello come questo non può non essere nella nostra lingua, ma soprattutto essere portato in Italia per tutti, perché ragazzi è uno spettacolo, non è un 4x o che dir si voglia 4x, questo è un gioco di strategia da un'ora o due ore, non è sicuramente un Twilight, Imperium, giochi del genere, però comunque è un gioco veramente molto interessante, dove le partite dureranno appunto su quelle due rette, tirate tre se proprio la volete allungare chiacchierandoci un po' su, ed è un gioco molto interessante, e quanto prima vi porterò direttamente sul canale anche il Cosa Ne Penso, e non vedo l'ora di farvelo, perché è veramente uno spettacolo. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima! Ciao a tutti!